Porto Gruaro, questa mattina l'autopsia sul bimbo di 18 mesi morto lunedì sera, il decesso sopraggiunto per schiacciamento della scatola cranica verosimilmente provocato dallo pneumatico di un'auto. Le indagini proseguono e sembrano contraddire la versione iniziale dei familiari. Emergenza sbarchi a Lampedusa, i migranti superano i residenti con oltre 7.000 persone, fari accesi anche verso la rotta balcanica in otto mesi, 13.700 arrivi in Friuli-Venezia-Giulia, scoppia la polemica a livello politico, il centrodestra punta al dito verso Bruxelles, opposizioni contro il governo che annunciava blocco dei porti e blocchi navali. Transizione energetica ed ecologica, la regione Friuli-Venezia-Giulia è pronta a investire nei prossimi cinque anni oltre 270 milioni di euro. È quanto emerso nel corso di un convegno svoltosi questa mattina a Trieste le risorse destinate alle imprese, sostenute con mirati investimenti. Tutto esaurito per la premiere di Cavalcando la Tigre, vita di Lino Zanussi, il docufilm ispirato alla storia dell'imprenditore, pioniere dell'elettrodomestico. Questa sera l'anteprima Cinema Zero a Pordenone nell'ambito del Festival Pordenone Legend. IGM ben ritrovati con l'informazione di Media24, dunque quelli che avete sentito sono i titoli della nostra edizione. Con in apertura però una tragedia sul lavoro avvenuta nel pomeriggio a San Polo di Piave, alla cantina Cadiraio in Via del Carmine. Due operai nell'autoclave, il bilancio è di un morto e un ferito grave. È successo nel pomeriggio in apertura della vendemmia. Carabinieri a lavoro per ricostruire la tragedia. La richiesta di soccorso è giunta al 118 per recuperare due persone colte da malore durante la pulizia di un silo. Sa soccorreli i pompieri del distaccamento di Motta di Rivenza e Conegliano. Nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione. Il medico ha dichiarato il decesso di un uomo o di un operaio e dopo la stabilizzazione un secondo operaio è stato trasferito all'ospedale Caffoncello di Treviso in gravi condizioni. Sul posto anche lo Spisa, li tecnici dell'azienda sanitaria incaricati di accertare gli incidenti proprio sul lavoro. Portogruaro, l'autopsia sul corpo del piccolo Bilal. Il bambino è rimasto schiacciato ed è morto dopo la frattura al capo. Sentiamo i particolari nel servizio di Rosario Padovano. L'autopsia completata nel primo pomeriggio di oggi, 14 settembre, smentisce categoricamente la tesi della caduta dalla macchina. Il bambino è stato schiacciato. C'è una svolta sul caso di Bilal Cortesi, il piccolo di soli 18 mesi di Mazzolada, originario della Serbia, morto dopo un'ora di agonia lunedì sera in ospedale a Portogruaro. Il piccino prima del ferimento stava giocando per strada con i cuginetti, quando probabilmente è rimasto schiacciato da una macchina in retromarcia. Questa è la tesi dei carabinieri, sulla quale ieri mattina c'era stata la parziale apertura di uno zio che aveva ipotizzato l'investimento da parte di un'automobile in movimento, favorita da un guasto e da una leggera pendenza. L'esame autoptico disposto dal procuratore capo di Pordenone, Maria Grazia Zaina, è stato eseguito dal medico legale Antonello Cirnelli. Accanto a lui c'era il pelito scelto dalla famiglia, rappresentata dall'avvocato Aldo Masserut del foro di Pordenone, colui che difende la soldatessa americana che ha travolto e ucciso un quindicenne a Porcia. Sul posto, stamani, nella cella mortuaria di via Friuli a Portogruaro, erano presenti anche gli uomini della stazione investigativa scientifica di Mestre che lunedì sera si sono ritrovati la strada, completamente pulita dopo l'incidente. Via Loredani, infatti, era stata lavata mentre Bilal stava morendo all'ospedale. Un affronto. Questo non ha impedito ai carabinieri di eseguire tutti i rilievi, ma questa manomissione non è piaciuta per niente a chi indaga. Resta da capire se il bimbo è rimasto schiacciato da una macchina chi è stato. La procura di Pordenone ha escluso un atto di pirateria stradale. Andiamo nelle Pordenonese, incidente lungo la strada che collega Porcia a Prata di Pordenone. Grave una coppia di giovani. E di due feriti gravi il bilancio di un incidente avvenuto ieri sera in località Rondoverne, il comune di Porcia. Intorno alle 20.30, una Peugeot 207 che stava percorrendo la strada che collega Porcia a Prata di Pordenone, in direzione di quest'ultimo paese, per cause ancora in corso di accertamento ha sbattuto contro la spalletta di un ponticello che collega la strada ad un'abitazione privata, finendo la corsa nel fosso. Non si esclude che dietro al sinistro non possa esserci stato un sorpasso azzardato, un superamento del limite di velocità. Gli occupanti, un giovane uomo e una giovane donna, sono rimasti incastrati nell'abitacolo. Ad allertare i soccorsi è stato un passante che ha visto l'auto nel fosso. Subito sul posto sono giunti l'ambulanza da Pordenone, una da Zanodecimo, l'automedica e l'elissoccorso. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a tagliare le lamiere ed estrarre dalla vettura i due feriti, consegnandoli al personale sanitario. L'uomo è apparso subito in gravi condizioni ed è stato trasportato in volo in codice rosso all'ospedale di Cattinara. La donna è stata accompagnata con l'ambulanza all'osocomio di Pordenone con ferite serie, ma stabile. La dinamica è al vaglio del reparto volanti della Polizia di Stato. La stessa strada è stata già in passato teatro di gravi incidenti. San Michele ha il tagliamento in ansia invece per un ventenne ferito gravemente in un incidente in moto accaduto in Friuli. Sono molto gravi le condizioni di un ventenne di Bibione, vittima di un incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di Precenico due sere fa. Il giovane infatti è stato ricoverato in proniosi riservata all'ospedale Santa Maria Maggiore di Udine. Ci sono dei problemi a livello spinale che i medici stanno cercando di risolvere. Il ventenne, residente a San Michele al tagliamento, tuttavia rischia la paralisi. È fuori pericolo di vita. Sulla moto montava in sella anche una sua amica. Era però il ragazzo alla guida su una motocicletta che non è sua. Questo episodio è emerso nel corso delle indagini. La situazione quindi dal punto di vista della sua salute è di grave rischio, ma gli operatori sanitari non disperano. Emergenza migranti. In otto mesi 13.700 arrivi in Friuli, Venezia e Giulia attraverso la rotta balcanica. Lo ha annunciato il ministro Piantedosi durante il question time alla Camera. Intanto negli ex capoluoghi la situazione bivacchi si fa sempre più pesante. Partiamo da qui. 13.700 migranti sono entrati in Friuli, Venezia e Giulia nei primi otto mesi di quest'anno con un trend che non sembra frenarsi, appesantendo ancora di più la macchina dell'accoglienza regionale già in sovraccarico. Di questi 1.500 sono stati trasferiti in altre regioni. Sono questi i dati forniti dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi durante il question time ieri alla Camera, nel quale ha risposto ad una interrogazione sulla situazione al confine nord-orientale del paese. Il ministro ha comunicato che a settembre dell'anno scorso è ripresa l'attività congiunta tra la polizia italiana e quella slovena, che ha permesso di inibire dall'inizio dell'anno in corso l'ingresso sul territorio nazionale di 1.900 migranti irregolari. A pesare però in particolar modo sui comuni sono gli arrivi di minori non accompagnati, la cui presenza è aumentata esponenzialmente negli ultimi mesi. Per affrontare questo problema il ministro ha annunciato una serie di interventi ancora in fase di definizione per risolvere il problema dei migranti che dichiarano un'età inferiore per avvantaggiarsi delle tutte le previste per i minorenni. Intanto negli ex capoluoghi di provincia, tra cui anche Pordenone, si fa sempre più pesante la presenza di bivacchi, come segnalato anche da alcuni cittadini sui social. Almeno una ventina di persone stazionano nei parchi cittadini. Una situazione complessa per cui prefettura e questura, per quanto di competenza, stanno lavorando per trovare una soluzione. Il problema però rimane uno, mancano strutture e gli ingressi sono sempre tanti. Ancora immigrazione perché le polemiche si fanno sentire anche in Veneto, da un punto di vista politico, dopo quanto sta accadendo a Lampedusa, dove le persone sbarcate nelle ultime ore hanno superato addirittura il numero di residenti della località. Sentiamo. Oltre 7.000 migranti arrivati nelle ultime ore, un numero che supera i residenti totali di Lampedusa. L'emergenza sbarchi che sta tenendo banco nella località del Sud Italia accende le polemiche nazionali, catapultando una certa tensione anche in Veneto. La Lega punta il dito verso Bruxelles parlando di fallimento politico della maggioranza di governo. Le coste italiane, in calza Alberto Villanova, presidente dell'intergruppo Lega Liga Veneta, sono il confine meridionale dell'Europa, il cui progetto dei ricollocamenti è miseramente naufragato, ma non vi erano dubbi, nelle acque della presunta solidarietà europea. Francia e Germania di questa solidarietà a parole ce ne hanno dato un chiaro esempio in questi giorni, chiudendo frontiere e dando il via ai respingimenti. Ben diversa invece la posizione del Movimento 5 Stelle, l'emergenza sbarchi e la drammatica conferma del flop degli accordi della Meloni con Tunisia e Libia, dichiarano l'onorevole Enrico Capelletti e la senatrice Barbara Guidolin, ma è anche figlia della irrilevanza del governo Meloni in Europa. L'esecutivo sul fronte immigrazione è allo sbando, i sindaci del nostro territorio sono lasciati soli a gestire l'accoglienza. È evidente che chiusura dei porti e blocchi navali erano solo furbesche trovate per accaparrare dei voti. In studio con noi rientriamo, c'è Sara Moretto che è componente del direttivo nazionale di Italia Viva, ben ritrovata. Buonasera. Abbiamo sentito insomma dai servizi quella che è la polemica relativa alla questione dei migranti, tanto in Veneto quanto in Friuli, Venezia e Giulia. Che cosa prevede Moretto, visto che proprio sui migranti, ricorderà bene quando era parlamentare, ci fu il caso Kona e anche lì furono delle polemiche molto lunghe? Beh io credo che la situazione attuale innanzitutto dimostri che quando dall'opposizione si passa al governo la propaganda viene di fatto smascherata. Coloro che promettevano un blocco degli arrivi, delle chiusure, non sono stati in grado di mantenerlo quando sono arrivati al governo. Io non voglio trasformare, passare anch'io dalla parte di chi fa propaganda e ritorno sulle questioni di merito, cose che ho sempre sostenuto anche quando ero in commissione di inchiesta sulla situazione dei migranti in Italia e rimango convinta che continuare a mettere insieme migliaia di persone, come stiamo vedendo soprattutto negli hotspot al sud, dove ogni volta aspettiamo che succeda la tragedia per poi metterci le mani nei capelli o ricorrere ai ripari, invece non è possibile pensare di ammassare le persone così e di poterle gestire, serve una distribuzione omogenea, serve, e questo è necessario mi pare che lo dicano i sindaci di qualsiasi colore politico, serve una forte azione in Europa, cosa che il governo Meloni non sta facendo. Qui però è d'accordo con il centro-destra perché è anche il centro-destra che punta il dito contro Bruxelles perché si sente abbandonata, anche a seguito di quanto ha fatto per esempio la Germania e la Francia, no? Beh, è evidente che l'Europa è manchevole di un intervento serio sui migranti, lo dico senza problemi e lo dico da tempo, credo però che chi diciamo annunciava di andare a Bruxelles con i pugni sul tavolo, di ottenere risultati, questo non sta facendo, serve un patto sui migranti vero, nel quale tutti i paesi siano d'accordo, mi auguro che la Meloni che oggi è da Orban ottenga anche da lui il via libera ad un piano di distribuzione equa delle persone che arrivano nel nostro continente. Chi si sente grande difficoltà sono proprio i sindaci che poi si devono fare carico per esempio dei minori non accompagnati e lì si va a gravare sui bilanci comunali. Questo è un problema annoso che ho affrontato anche quando ero in Parlamento ed è un problema che i sindaci denunciano da tempo e con grande serietà. Io condivido tutte le loro preoccupazioni perché si tratta un po' di un terno all'otto, quando un migrante non accompagnato arriva sul territorio comunale, bisogna, secondo la legge e anche secondo dei principi umanitari corretti, prendersene carico ma questo non può gravare interamente con i costi che ha sui bilanci comunali. Questo è un problema che va risolto a monte e ci deve essere un contributo governativo soprattutto per questi bambini e ragazzi che hanno bisogno ovviamente di un'assistenza diversa da quella di un adulto. Un minuto su Porto Agurare, come vanno le trattative con il centro-sinistra? C'è stata una pausa estiva che credo insomma abbiano fatto. Le scuole però hanno riaperto quindi. Quindi si ricomincia tutti esattamente a lavorare. Come ho già avuto modo di dire, io credo che c'è un cantiere aperto, c'è la disponibilità a lavorare ad un'alternativa rispetto a quello che è stato il governo di questi ultimi anni a Portogruaro. Italia Viva ritiene che ci siano alcuni temi sui quali è necessario chiarire da subito la posizione. In primis quello di riportare Portogruaro ad un ruolo di leadership nel territorio perché in questi anni abbiamo perso il ruolo di guida che abbiamo sempre avuto in questo territorio rispetto alle questioni sovracomunali. E va ripensata una città che ha perso sicuramente smalto e che ha bisogno di politiche serie a favore delle persone e delle attività economiche. E molti si chiedono se lei ci sarà alle prossime amministrative. Io sto lavorando per dare il mio contributo alla città, quindi sicuramente Italia Viva io ci saremo e vedremo con quale ruolo potremo dare una mano. Grazie Sara Moretto. Grazie a voi. Per essere stata con noi. Continuiamo il telegiornale. Crollo dei lavoratori autonomi. Meno 134 mila dal 2019. Secondo Confesercenti un vero e proprio crollo che non può che preoccupare. dal 2019 al 2022 segnala il rapporto annuale dell'Inps. I lavoratori non dipendenti assicurati dall'Istituto passano da 4,959 milioni del 2019 ai 4,825 milioni del 2022 con un calonetto come detto di 134 mila unità in quattro anni oltre 90 al giorno. Un dato che purtroppo conferma dice Confesercenti la crescente difficoltà a rimanere sul mercato da parte delle piccole e medie imprese. I giovani sono la locomotiva del Veneto. La formazione e lo studio creano maggiori opportunità. Sono le parole del Presidente della Regione Luca Zaia presentando lo speciale sui giovani curato dall'ufficio Statistica che aggiorna oggi alcuni importanti dati. C'è da dire sapere il Governatore che l'inserimento dei giovani nel mercato lavorativo negli anni è slittato in avanti. Nel 2005 in Veneto ogni 100 lavoratori dai 15 ai 29 anni si contavano 39 occupati tra i 55 e i 64 anni, mentre nel 2022 questo valore è salito a 134. Ciò nonostante sono pochi e in diminuzione gli under 30 che non lavorano, non studiano e non si forma. La percentuale è dunque la terza quota più bassa in Italia. Regione al fianco delle imprese, passiamo al Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda la transizione energetica ed ecologica. L'assessore regionale Scocimarro assieme al collega Abini annuncia 275 milioni di euro da qui ai prossimi 5 anni proprio per sostenere le aziende verso la transizione. Se ne ha parlato oggi a Trieste. Assessore Scocimarro, transizione ecologica ed energetica, economia circolare, tutte prerogative che sono in cima alla lista dell'amministrazione regionale? In questi 5 anni di delega c'è stato un crescento pagneriano per quanto riguarda la sensibilità ambientale e preenergia. Avendo questa delega mi devo confrontare non solo con i miei colleghi di giunta e con il Presidente ma anche con i portatori di interesse, quindi la casa degli imprenditori che è la Camera di Commercio e quindi confrontarci su come gestire non solo le politiche ambientali ma anche quelle dell'energia. Quindi per esempio nel campo ambientale vedendo il rifiuto non come uno scarto, come un costo ma come un'opportunità anche da poi essere reinvestito. Penso agli scarti del caffè che in questo momento è un nuovo progetto che diventeranno fertilizzanti, quindi anche con un buon odore e quindi non più un costo ma appunto un guadagno. Invece per quanto riguarda l'energia oggi c'è questa transizione energetica che dobbiamo stare anche molto attenti a cavalcare andando a ficcare la testa nel drago cinese e avendola tolta dall'orso russo. Quindi cercare un'autonomia dell'energia. Il nostro Governo fa molto bene utilizzando questa sovranità energetica auspicabile con il piano Mattei e tutti quanti noi nel nostro piccolo, nella nostra regione dobbiamo portare avanti politiche di autonomia dell'energia. Abbiamo investito tantissimi soldi sul fotovoltaico, si dovrà fare altrettanto per altre fonti rinnovabili e senza dimenticare che poi bisogna la corrente portarla con delle reti adeguate. Venezia invece è conclusa un'operazione anti-borseggio dopo i fatti che durante tutta l'estate si sono susseguiti. Facciamo il bilancio. L'arresto del cittadino romeno eseguito a Piazzale Roma di Venezia lo scorso 10 settembre è l'ultimo risultato dell'attività anti-borseggio svolta dai carabinieri del Comando Provinciale di Venezia. Un'azione mirata decisa dalle disposizioni impartite dal prefetto Michele Di Bari. Un dispositivo modulare costituito da pattugli a piedi in uniforme in abiti civili. Il bilancio di questa operazione comprende 5 arresti in fragranza di reato per furto con destrezza. Il 10 giugno uno slovacco presso l'imbarcadero San Zaccaria ai danni di una turista italiana. Il 23 giugno due romeni protagonisti verso Calle-Vallaresso ai danni di un turista statunitense. Il 26 giugno un romeno presso Piazzale Santa Lucia ai danni di un turista tedesco. Il 10 settembre un romeno protagonista la fermata autobus di Piazzale Roma appunto ai danni di un turista francese. Inoltre 7 persone sono state denunciate sempre per furto con destrezza. 26 le persone deferite in stato di libertà per violazione del foglio di via. Circa 100 le persone di interesse operativo identificati. Risultati positivi che servono da sprone per consolidare il virtuoso percorso intrapreso che, sin dall'avvio, si è posto tre obiettivi precisi a Venezia. Conoscenza, contenimento, repressione. Tutela della fauna minore in Veneto, presentato un nuovo progetto di legge. Europa Verde insieme con le associazioni che nel territorio si occupano di piccola fauna ha deciso di presentare un progetto di legge che finalmente riconosca il valore intrinseco di questa parte di Veneto che è indispensabile. Si tratta di specie autoctone che sono il primo indicatore della qualità degli ecosistemi in cui anche noi abitiamo. E se questi ecosistemi sono in disequilibrio è evidente che loro sono i primi che ci segnalano il problema. Quindi andare ad analizzare la loro qualità di vita, fare monitoraggi, studiarli e di conseguenza attivare soluzioni per conservare il loro habitat ci consente anche di conservare le nostre attività. Perché? Perché esclusivamente dalla loro presenza e la qualità dell'habitat possono insistere dei servizi ecosistemici possono essere utili all'uomo, dei servizi ecosistemici che la natura dà gratuitamente e ci consentono la continuità dell'attività agricola oppure per esempio di conservare l'acqua oppure addirittura di contrastare l'inquinamento dell'aria. E questo è tutto un vantaggio che ci dà la possibilità di poter realizzare la nostra vita nel territorio e non spendere eccessivamente sia per la prevenzione sanitaria che ambientale. Penso ad esempio che con di solo consumo di 1.400 ettari di suolo libero si crea un costo per le istituzioni e i cittadini di 137 milioni di euro per la mancata erogazione dei servizi ecosistemici di cui la fauna e gli habitat in cui abitano sono i primi erogatori. Oderzo tagliato l'ultimo autobus della domenica sera. I pendolari insorgono ma il sindaco difende la scelta. L'azienda di trasporti MOM, ex la marca di Treviso, la domenica sera non servirà più Oderzo. Il vecchio autobus che partiva da Treviso alle 22.30 non arriverà dunque a destinazione nella città opitergina con buona pace dei pendolari e di chi lavora. Chi deve spostarsi dalla città capoluogo e deve rientrare a casa a Oderzo non ha alternative, deve adoperare la macchina o farsi accompagnare. L'ultima possibilità è quella di salire sull'autobus sostitutivo del treno organizzato da Trenitalia sempre la domenica e nei giorni festivi alle 19.40. La MOM ha risposto che l'autobus che arriva a Oderzo alle 22 è stato tagliato per ridurre le spese. Salivano solo due al massimo tre persone. Una scelta condivisa peraltro dalla sindaca. Maria Scardellato. Pordenone, il Maggiore Massimiliano Amato, il nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri, ha assunto il comando proprio della caserma in sostituzione del tenente colonnello Luciano Sumo destinato al comando provinciale dei Carabinieri di Gorizia con l'incarico di capo ufficio comando. L'ufficiale 48enne proveniente dalla Legione Veneto dove ha comandato la compagnia di Tiene nella sua ventenale carriera nell'arma operato prevalentemente in un'organizzazione mobile a Bologna, Palermo e Gorizia partecipando anche a diverse missioni internazionali. Pordenone, tutto esaurito per la premiere di Cavalcando la Tigre, vita di Lino Zanussi, il docufilm ispirato alla storia dell'imprenditore e pioniere dell'elettrodomestico. Questa sera l'anteprima a Cinema Zero nell'ambito del Festival. Pordenone legge. Sarà presentato in anteprima questa sera a Cinema Zero nell'ambito della ventiquattresima edizione di Pordenone legge il docufilm Cavalcando la Tigre, vita di Lino Zanussi, che racconta la vicenda umana ed imprenditoriale di uno dei pionieri dell'industria pordenonese e friulana. L'opera di Pier Giorgio Grizzo, che ha firmato regia e sceneggiatura nata da un'idea di Stefano Candiani, ripercorre la storia dell'imprenditore che in meno di vent'anni ha trasformato un'officina che produceva e riparava stufe a legna in un'azienda leader nel mercato europeo per gli elettrodomestici, evidenziandone però l'aspetto umano. Nel film Zanussi, interpretato dall'attore udinese Raffaello Balzo, famoso al grande pubblico per serie come Elisa di Rivombrosa, Cento vetrine e Un posto al sole, è un uomo concreto ma anche visionario consapevole del fatto che ogni impresa, a prescindere dalle dimensioni, è fatta di uomini, i quali, dagli operai ai dirigenti vanno adeguatamente motivati e gratificati. Nel cast presenti anche Erika Alberti, attrice pordenonese come voce narrante, i Papu ed altri attori ai volti noti friulani. Le riprese sono state effettuate tra Pordenone, Cordovado, Claut, Venezia, Cortina d'Ampezzo, Erto e Casso e la Val di Brenta. Il locu film narra dunque la vincente storia di un miracolo pordenonese fondamentale per la crescita economica dell'intero territorio e interrotto bruscamente e prematuramente con la scomparsa di Lino Zanussi in un incidente aereo il 18 giugno 1968. Il documentario di Grizzo, attraverso l'intervento di alcune personalità chiave, cerca di dare una risposta ad una domanda difficile, ovvero quale sarebbe stato il destino della Zanussi se Lino fosse rimasto alla sua guida. Veneto Orientale, l'Otorino Laringoiatria dell'Ulss 4 partecipa alla campagna Make Sense per la sensibilizzazione alla diagnosi precoce dei tumori della testa e del collo. L'educazione e la prevenzione passa infatti attraverso l'adozione di stile di vita corretti, la comprensione dei segni e dei sintomi della malattia. L'undicesima edizione si svolgerà dal 18 al 28 settembre. In questa occasione il reparto di Otorino Laringoiatria dell'Ulss 4 effettuerà due giornate di visite preventive martedì 19 e giovedì 21 settembre negli ambulatori di Otorino Laringoiatria dell'ospedale San Tommaso dei Battuti. Le visite saranno gratuite ma è necessaria la prenotazione. Sport, tempo di amichevoli per l'Azimuth Giorgione che punta a un torneo nelle zone nobili in B1. La squadra ha già svolto una seduta assieme al Volley Eagle Padova. DB2 sta lavorando agli ordini di coach Carotta. Le rosso-blu sono reduci da un ritiro al villaggio Marzotto di Jesolo. Domani alle 18 trasferta sul campo del Clodio. Venerdì 22 settembre a 90 Vicentina. Sabato 23 test a Montecchio Maggiore. Ancora con lo sport perché in occasione dei festeggiamenti dei 50 anni della nascita di un gruppo di ex giocatori possiamo andare con la foto. Trevigiani-Cestisti-Veccio-Basket-Treviso. Sabato 16 e domenica mattina 17 presso le palestre del centro sportivo di Treviso La Ghirada si svolgerà un momento di basket dal sapore Amarcord che vedrà impegnati roster di Treviso, Padova, Livorno, Genova, Padova, Napoli, Prato e Udine oltre a Venezia e Pordenone che si sfideranno in partite di minutaggio ridotto all'insegna dell'amicizia ma anche della lealtà e della solidarietà. Grazie per averci seguito, con questo è davvero tutto. Vi lascio come sempre alle nostre previsioni del tempo a seguire poi le notizie dei colleghi nazionali di Talpress la rubrica Momenti di Sport e Società alle 22 da non perdere il grande film di Media24. Rimanete con noi. Rimanete con noi.